Un viaggio nella storia dei vaccini attraverso una mostra per capire come la medicina abbia affrontato il tema delle epidemie nei secoli, dalla peste al Covid-19. Con cura, con amore, con rigore, viaggio nella storia dei vaccini. Questo il titolo del progetto realizzato da Regione Toscana e ASL Toscana Centro in collaborazione con Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Il vero strumento per debellare la pandemia, il Covid-19, è quello del vaccino e noi ne avevamo perso un po' memoria storica perché in fondo l'ultima grande pandemia è stata quella di un secolo fa, la spagnola dal 1918 al 1920, ma in realtà la civiltà umana dai tempi degli antichi greci, e qui il riferimento nella mostra parte proprio adattocidide fa i conti con quello che sono le epidemie. Noi abbiamo voluto riprendere proprio dalle origini tutta la storia importantissima che ha salvato milioni e milioni di persone lungo i secoli e la stessa situazione oggi si ripresenta perché la pandemia di oggi è come era il colera, il vaiolo. La mostra itinerante, composta da 30 pannelli, ripercorre la storia delle più grandi epidemie con alcune curiosità, come che una sorta di passaporto vaccinale esisteva già nel Settecento e si chiamava Fede di Sanità. Una parte della mostra è dedicata alla Toscana, dove viene ricordata anche la Sclavo di Siena, dove nel 1950 venne prodotto il vaccino che sconfisse la poliomelite. La storia è lunga, noi siamo voluti fare questo perché in questo momento sta iniziando la campagna vaccinale, entra nel vivo la campagna vaccinale, è bene che le persone imparino dal passato, nel passato è stato fatto tanto, è stata applicata la scienza alla medicina e si è ottenuto dei grandi risultati, abbiamo praticamente sconfitto il vaiolo, la tubercolosi, la poliomelite, il colera, sconfiggeremo anche il coronavirus, ci comportiamo e ci siamo comportati in passato. La mostra sarà poi esposta nei centri vaccinali toscani.